Scusate, avevo finito lo spazio archiviazione, però ora dovremmo esserci, dicevo, il Torino secondo me è un udinese che ci ha creduto di più, che ci crede di più, e quindi secondo me arriverà parte sinistra della classifica senza alcuni problemi. Arrivati all'ottavo posto io ci metto la Lazio, perché secondo me hanno una squadra che se non sapessi che si tratta della Lazio, arriverebbe a metà classifica, è vero, ce li hanno comunque dei buoni nomi, Kintusi, Castellanos, Romagnoli, Provedè, però Baroni non mi dispiace neanche troppo, però c'è onestamente troppo poco, il livello veramente si sta abbassando, lo tito nonostante si fosse qualificato in Champions due anni fa continua a non spendere, e quindi secondo me la qualità della Rosa ne risentirà, ne risentirà anche il cammino in questo campionato, secondo me arriveranno fuori dalle compie, ma potrebbe fare anche bene alla società bianco-celeste. Settimo posto c'è un'isola Fiorentina, perché con l'arrivo di Gudunson hanno secondo me un fattore in più, e comunque il palladino è bravo, e saprà dare secondo me la quadra alla giusta quadra alla Viola, che secondo me si riconfermerà per l'ennesima volta in Conference League. Allora, al sesto posto ci ho messo la Roma, perché Topic mi piace molto, Sule anche, hanno perso Lukaku, si hanno perso Nibala, però comunque l'anno scorso non è che li avessi visti così bene, e c'è da vedere dei rossi, certo, c'è da vedere dei rossi come si comporterà con questa squadra, perché secondo me comunque non è una squadra da Champions, e quindi per questo non li metto più su. Faranno sicuramente il loro campionato, magari tra alti e bassi, ma secondo me topperanno per un altro anno l'obiettivo stagionale. Quinto posto ci ho messo l'Atalanta, perché essi si riprendono.